Ciao a tutti i dreamers, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me! Oggi torniamo su Adopt Me perché ragazzi a grandissima richiesta vi spiegherò come non farsi scammare, come utilizzare Traderie e soprattutto dei piccoli accorgimenti per proteggere il proprio account su Roblox. Se quindi voi volete altri video del genere mi raccomando lasciate un bel mi piace adesso iscrivendovi al canale, tappando la campanella, Instagram e TikTok li troverete giù in descrizione, come giù in descrizione troverete sia il sito delle nostre magliette, il merch Never Stop Dreaming e Instant Gaming dove sono ancora il sconto i Roblox! Allora, oggi ci connettiamo per il 224esimo giorno, prendiamo i nostri 200 dollari, ma guardate il mio conto quanto sale, mamma mia che bello, vive i soldi! Per quanto riguarda le stelline siamo a 195, ben 15 stelline e andremo al Ginger Cat! Ciao Fiocco! Ciao Fiocco! Sei bellissimo Fiocco! Andiamo al centro, vediamo giusto com'è un po' la situazione, qualcosa di semplicissimo perché appunto abbiamo tante cose di cui parlare. Allora, who have my dream pet? Sì ma non lo dici quello qual è il tuo dream pet? Ok, non è propriamente un server ricco, abbiamo diversi otter neon, un server neon questo poco ma sicuro. Luna Rocks, tesoro, nessuno vuole i Luna Rocks, sono... Non si sa bene perché, ma i Luna Rocks sono tra i pet più odiati del gioco e io non riesco a capire bene perché. Ah, c'è di nuovo la Dino Machine, abbiamo qualche regalo, magari ci esce qualche macchina nuova, ma c'è di nuovo la Dino Track qui, quindi leviamo mano, togliamo da mezzo. Allora, e iniziamo a parlare volendo delle prime cose, i primi accorgimenti che potete fare proprio mentre state giocando ad Adopt Me. Ragazzi, oh, mi sono... aia! Mi sono appuntata anche tutto quello che volevo dirvi perché davvero ragazzi sono tanti, tanti accorgimenti che potete fare per proteggere il vostro account voi stessi e anche, che ne so, i vostri pet. La prima cosa che dovete fare ragazzi, banale, banalissimo, non so quante volte l'ho detto, ma molti di voi si ostinano, è non fare trust trade. Non riesco a capire perché ancora molti di voi li facciano, cioè sono più rari i casi in cui davvero funziona il trust trade che quelli in cui vi prendono tutto. Il trust trade ragazzi è una delle tecniche più utilizzate per scammare e rubare i pet. Tra sette giorni andrà via il nostro lambino. Alcuni di voi dicono, Franci ma che cos'è il trust trade? Mentre parliamo faccio fare anche le missioni al mio lambino. Allora, letteralmente il trust trade vuol dire scambio di fiducia, ovvero c'è una persona che dice, tu mi dai il tuo pet migliore, io ti do il butt dragon. Ad esempio, come funziona letteralmente il trust trade? Io ti do prima il mio pet, facciamo lo scambio, poi tu mi rimandi la richiesta di trade e rifacciamo lo scambio dove tu metti il tuo pet. Quindi la prima volta io ti do il mio pet e tu nello scambio non metti nulla, la seconda volta tu metti il tuo pet e io non metto nulla. Ma la maggior parte delle volte come funziona? Io metto il mio pet, facciamo lo scambio, l'altra persona scappa, abbandona il server e se ne va. Quindi voi avete perso il trade, avete perso il pet. Ci sono delle possibili soluzioni per questo, ovvero vi basta andare nella licenza, questo qui, e fare il report. Per cosa è successo? Trust trading. Dovreste fare questo. Tutte le volte che io l'ho fatto, quando mi hanno scammato i pet per fare delle prove, per vedere se i server, queste cose funzionavano, a me non mi hanno mai risposto. Però se esistono persone che sono state risposte e in cambio dei pet rubati hanno avuto dei robux. Nel caso in cui non foste stati voi ad aver fatto il trade, ovvero vi hanno hackerato l'account, sono entrati nel vostro account, dovreste premere Non ho fatto questo trade. E qui scrivete hacking, per esempio. Però la maggior parte delle volte in cui vi hackerano gli account è per, anche in questo caso, due motivi. Primo motivo semplice, avete una password davvero semplicissima del vostro account. Oppure avete delle password comunque davvero molto facili da scoprire, davvero facilissime, facilissime. Se potete, io vi consiglio, e sapete di avere una password facile, io vi consiglio di cambiarla. Fatevi aiutare dai vostri genitori a cambiare la password del vostro account di Roblox. 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 Così il vostro account sarà al sicuro. Alcuni messaggi che mi sono stati mandati poi, dicevano Franci, io ho dato il mio nome, il mio username, il mio nome sul Roblox e la mia password a una persona la quale mi aveva detto che mi avrebbe messo i Robux sul profilo in cambio di questi dati. Cioè doveva fare l'accesso al mio account, mi avrebbe regalato i Robux e poi mi avrebbe ridato l'account. Ragazzi, questo nemmeno nei sogni più belli del mondo succede. Cioè nessuno, ma nessuno, vi regala i Robux. Perché appunto sono a pagamento, quindi non dovete mai, 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 mai dare la vostra password a qualcuno. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Quindi non fidatevi assolutamente di nessuno, se non dei vostri genitori. Non dovete dare la password nemmeno ai vostri amici. In quel caso, dove siete stati voi a dare la vostra password a qualcuno, AdoptMe non può fare niente, perché siete stati voi a dare la vostra password. Quindi anche se siete a dare la della dello scam, AdoptMe non può fare niente, perché appunto avete scelto voi di farvi hackerare, scammare, dando la vostra password del vostro account. Se date i vostri account, questo succede. Adesso magari spostiamoci su Traderie, che è l'unico sito a cui io mi affido per fare degli scambi. Allora, questo è il sito. Si chiama Traderie.com. Vi basta anche andare su Google e cercare Traderie, se volete. Traderie, ed ecco qui, questa è la pagina iniziale dove ci sono tutte le cose che si possono scambiare, tutti i vari giochi, Pokémon, Rocket League, Animal Crossing. Voi dovete cliccare su AdoptMe. Ed ecco qui, dovete registrarvi e mi raccomando, mi raccomando ragazzi, mai mai mettere qui il vostro nome su Roblox, il vostro account. Se mettete il vostro account, è facile, davvero molto facile, che qualche hacker prenda il vostro nickname e provi a recuperare la password, fare cose e rubarvi l'account. Quindi il vostro nome lo dovrete dare soltanto nella chat con cui parlerete con le persone. Anche in quel caso, mi raccomando ragazzi, mai 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 dare la password. Avete anche a disposizione una piccola biografia qui, dove io vi consiglio di scrivere dove siete, perché così le persone, per esempio Italia, non la vostra città di residenza, ma Italia, per far capire alle persone magari l'orario, il vostro orario, se la persona con cui state facendo lo scambio vive in America, almeno così capisce che non avete lo stesso orario. E poi le lingue che parlate, per esempio io ho scritto italiano e inglese. Il sito è praticamente in inglese. Allora, io preferisco mettere la, ok, perfetto, così mi piace molto di più. Come funziona? Ma su Traderie potete sia mettere oggetti in vendita per scambiarli, sia trovare, fare offerte. Allora, per esempio, iniziamo con le cose in vendita. Per esempio, queste sono le cose che io sto scambiando, che cerco per scambiare. Per esempio abbiamo quattro lambo, una tartaruga, quattro peacock. Potete scegliere davvero quello che volete. Vi faccio vedere anche come si fa. Si divide in food, eggs, gift, pets, pet items, strollers, toy, vehicles. Io vado in pet, per esempio, anzi scrivo proprio qui la, ok, ad listing. Vendo uno ride e poi metto neon ad listing. Ed ecco qui, il tuo oggetto, il tuo pet è stato messo tra le varie cose. Infatti se andate tra quelli in vendita, eccolo qui, c'è il vostro pet. Ma nel caso in cui voi vogliate fare un'offerta, non so, io cosa sto cercando tra tutti questi pet? La giraffa. Vediamo una giraffa regolare. Il suono che avete sentito adesso vi faccio vedere che cos'è. Per esempio, gli offrono un lama, un coccodrillo, una iena. Noi clicchiamo su fai un'offerta. E per esempio, che pet ho disponibili per il trade? Fatemi vedere. Possiamo mettere schelerex, unico, canguro, tartaruga. Quindi io scrivo schee. E scriviamo schelerex ride. Poi scrivo tartaruga, turtle e la mettiamo fly ride. Mi sembra che forse quella è anche fulgro. Sì, infatti, lo schelerex no. Però possiamo marcarla anche fulgro. Canguro, eccolo qui. E fly ride fulgro. Proviamo a mettere il maiale, l'albino bet, anche il neon lamb. Quindi scrivo pig e l'andiamo a mettere ride. Poi abbiamo detto lamb. E nel mio lamb facciamo neon ride. Siamo 1, 2, 3, 4, 5. Mancano 4 cose per completare i nomi. Quindi andremo a mettere 2 pozioni fly. Scrivo fly e scrivo qui 2. E poi vado su ride. E anche in questo caso vado a mettere 2. Conto di aver messo 9 oggetti. Mettere più oggetti, ragazzi, non vi farà scegliere o cose del genere. Perché è possibile fare scambi non giusti. Facendo così, nel senso. Ti do 9 cose e iniziamo a fare lo scambio. Poi te ne do altre 9. Me ne vado e arrivederci. Grazie. Quindi 5, 6, 7, 8 e 9. Ok. Clicco su submit offer. Ed eccoci qui. Questa è la nostra offerta. Il suono che avete appena sentito prima. E qualcuno ha fatto un'offerta per qualche nostro oggetto. Andiamo a cliccare sulla campanella. C'è questa ragazza che ha fatto un'offerta per il Lamb Neon. E mi vuole dare una chizzone. Ovviamente non ci vale. In questo caso potete fare questo. Declina. E vai. E la togliamo. Tra i vari pet e varie cose che ho messo in vendita. Abbiamo anche questa persona che ci vuole dare una ninja monkey. Potrebbe anche valere. Ma non sono in cerca. Una persona per una pozione fly vuole darmi 4. Oh. Un'altra persona. È lei. Va bene. Ci troviamo? Sì è lei. Ok. Un'altra persona per una pozione fly vuole darmi 4 Labrador. Per 9 pozioni vuole darmi degli skateboard. Che ovviamente non mi interessano. Una pozione fly. Una silly duck. Ci sarebbe. Mi piacerebbe fare questo scambio. Però prima di fare scambio cosa. Io vado a controllare il profilo della persona. A zero review. Quindi questa cosa vuol dire che è nuovo su questa piattaforma. Però comunque sta mettendo in vendita diverse cose. Vedete? Quindi può essere che queste cose ce le abbia davvero. Però dato che è a zero review non mi fido tantissimo. Io vado a cercare. Vi faccio vedere qualcuno che appunto per esempio questa persona ha su 21 review. Ha 3 stelle su 5. Qualcuno diceva davvero raccomandato. Super nice. Molto antipatico. Vedete? Non ha proprio una stella, una stella, una stella. Vedete? Non ha davvero review positive. Quindi tendo a non fidarmi. Quest'altra persona invece è molto affidabile. Perché ha avuto solo due recensioni. Però ha ben 4 stelline e mezzo su 5. Anche questo. Questo mi interessava molto farlo. Questo scambio. Però c'è questa persona che ha praticamente una sola stella. E non ci sono scritte nemmeno review. Quindi non mi fido tanto. Anche se però in vendita vedete ha diversi pet interessanti. Dovete analizzare bene di chi fidarvi o meno. Per esempio questo è uno scambio che io non farei mai. Sono troppi prodotti per una sola cosa. E soprattutto sono molto più di 9. Quindi o lei mi dà prima 9 prodotti. Io non le do niente. Oppure lei mi dà 9 prodotti. Io le do la pozione. E poi lei dopo dobbiamo rifare il trend. E lei mi deve aggiungere altre cose. Ma ci sono due possibili scenari. O lei mi dà 9 cose. Io non le do niente e scappo. Simile a un trust trade bannabile. Oppure lei mi dà le 9 cose. Io le do la pozione. Poi lei scappa. E quindi non mi dà più niente. Dovete comunque pensare e ragionarci. Per esempio questo è un trend fattibile. Perché ha 27 review. 5 stelle su 5. E mi offre per 9 pozioni un frost fury. Un pig. Due t-rex. Una new ladybug. Uno sieg. Questa è da fare. Questa potrebbe essere fatto come trade. O anche questo. Perché ha 5 stelle su 5. Anche questo. Anche se non sono pet che cerco. Vedete comunque. Ci sono cose interessanti. Abbiamo avuto un'altra richiesta. Abbiamo ricevuto un messaggio. Chi sei? Ha accettato? Per esempio vuole essere aggiunto su Discord. Tutta sincerità. Io utilizzo Discord soltanto per motivi di lavoro. Quindi non posso. Lui ha scritto aggiungimi su Discord. Io ho risposto. Non posso aggiungerti su Discord. Ma se mi dà il tweet di su Roblox. Posso mandarti una richiesta di amicizia. E possiamo fare il trade. Oddio. Se davvero questo ragazzo per tutte queste cose. Mi dà la giraffa. Ci sto alla grande. Però ha due review. E sono. Scammer. Ah ok. Vedete. Regolar Giraffe Scammer. Adesso proviamo. Ma non credo che funzioni. Secondo me non dobbiamo fidarci. Per esempio. Vi faccio vedere. Scambi che ho fatto in passato. Eccolo qui. Vedete. Ho fatto uno scambio con questa ragazza. Che si chiama Forever Jokes. Ho anche il video. Vi ho fatto il video. Ecco qui. Allora. Come potete vedere. C'è tutta la conversazione con la ragazza. Sono andata nel suo server. E per nove pozioni. Come vedete. Lei per nove pozioni Fly. Mi ha dato la King Monkey Fly Ride. Un Flamingo Fly Ride. E un Ocean Egg. Questo trade. E' stato fatto. Alla grandissima. Perché per le nove pozioni. Posso sempre comprarle. E erano due pet. Che mi interessavano tantissimo. Io sono abbastanza sicura. Che questa persona. Non sia vera. Ma nel caso. In cui funzionerà davvero. Ve lo farò sapere. Quindi ragazzi. Davvero. Non vi dovete fidare. Dovete essere molto attenti. Dovete stare attenti. A quello che fate. È fondamentale. Quindi ragazzi. Io spero che questo video. Vi sia stato utile. Se c'è qualcosa. Che non avete capito. Scrivetelo nei commenti. Io cercherò di rispondere. Tenete conto. Che sotto ogni video. Lasciate più di. 400. 500. 800. Commenti. E rispondere a tutti. È un po' impossibile. Però ci proverò. Quindi. Se avete altri dubbi. Lasciatemi un commento. E cercherò di rispondere. E aiutarvi. Se quindi ragazzi. Avete trovato questo video utile. Se volete altri video del genere. Mi raccomando. Lasciate un bel mi piace. E per iscrivervi al canale. E per vedere altri video presenti sul mio canale. Cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto. E ci vediamo domani alle 15. Con un nuovissimo video. Ciao.